Il primo episodio di Strigetis La sera del 6 novembre del 1983 In un laboratorio seduto un scienziato cerca di fuggire da una misteriosa creatura Nella vicina città di Vichys Il primo episodio di Strigetis Il mio nome è Mike Willi Lucas E Justin Sta definendo di giocare a Vichys Il primo episodio di Strigetis Mike che si trova a casa sua Va a letto Mentre gli altri Tre tornano a casa con loro in bici Treata Lugio La strada Gillo Vede Un strano essere che inizia ad inseguirlo, quindi scappa attraverso il bosco fino a casa sua. Dopo aver cercato di chiamare qualcuno, viene raggiunto dalla creatura che lo fa comparire i provvissamenti dal nulla. In attacco nel laboratorio segreto, vede sigillata l'area delle icinesse e negli agenti s'appeggiati dal dallo che è stato Dottor Martin Bladier. Si mettono alla ricerca di una raggiacina chiamata Udici, che ha approfittato della confusione per fuggire. e si è monumentale rifugiata in un barb in cui il proprietario Mendy Albon la ascolta, pensando sia stata palapita o vittima di abusi. quindi, dopo averle dato da ambaggiare, chiama i servizi sociali. la madre di Willi Choshen nel frattempo è preoccupata per la sparizione del figlio e denuncia la sua scopparsa alla polizia, che si mette alla ricerca del raggiaccio seguendo le sue tracce. La stessa sera la madre di Willi riceve una telefonata in cui sette il figlio sigilliozzale e alle tristrani suoni. l'uomo che ha ospitato Udici viene raggiunto da alcuni agenti del laboratorio, che lo uccidono sparandogli per poi provare a catturare la bambina. Udici riesce a fuggire e si imbatte proprio in Mike. Luca e Giatti, a Chellona, alla ricerca di Willi. Grazie. Grazie.